a più livelli nell'Unione Europea. È un argomento estremamente importante questo, secondo me, perché siamo parlamentari e quindi è nostro dovere occuparci del problema e trovare una soluzione. Diamo innanzitutto la parola al relatore onorevole Gualtieri e poi all'onorevole Scherfling, ugualmente in qualità di relatore. Roberto, hai facoltà per quattro minuti, hai quattro minuti ora e due al termine del dibattito. Se intervieni ora solo per tre minuti ne avrai tre alla fine e se parli ora per sei minuti non avrai più alla fine, quindi gestisci tutto il tempo come preferisci. Prego. Signor Vicepresidente della Commissione, con questo rapporto il Parlamento vuole offrire il suo contributo alla discussione in atto sul futuro delle istituzioni europee. L'angolo di osservazione è quello della governance multilivello, ossia dei meccanismi di differenziazione che storicamente hanno consentito di conciliare sviluppo dell'integrazione e unità e di garantire aristotelicamente, si potrebbe dire, il rispetto sostanziale del principio di eguaglianza, che significa trattamento uguale di situazioni uguali, ma trattamento differenziato di situazioni differenti. Si tratta di una questione cruciale dopo l'introduzione della moneta unica e soprattutto dopo che la crisi ha reso evidente la necessità di rafforzare la governance dell'unione economica e monetaria. La tesi fondamentale che il rapporto sostiene è che non solo è possibile costruire un governo economico dell'euro all'interno del quadro istituzionale dell'unione, ma anche che questa è l'unica strada per rendere questa rafforzata governance efficace e democraticamente legittimata. La teoria e la pratica della differenziazione che il rapporto propone è dunque quella di una differenziazione come strumento dell'unità dell'unione e non come elemento di divisione e di frattura, una differenziazione imperniata sulle istituzioni dell'unione e non su quella tendenza ad affidarsi a procedure e a strumenti di tipo intergovernativo che è prevalsa dopo il 2010. Il rapporto analizza e propone un insieme di procedure coerenti con questa filosofia, tra cui volevo sottolineare tra l'altro la combinazione tra articolo 352 e cooperazione rafforzata, che in alcuni casi con effetti equivalenti a quelli di una riforma dei trattati potrebbe consentire di evitare il veto di Paesi esterni all'area euro. Uno dei punti centrali del rapporto riguarda la democrazia e il ruolo del Parlamento. Qui la tesi è netta e argomentata. Il Parlamento europeo è anche il Parlamento dell'euro e la simmetria tra il Parlamento europeo dell'unione e il Consiglio, che invece vota in formato eurozona, prevista ad esempio dall'articolo 136 quando in combinazione col 121.6, è una procedura pienamente legittima, che anzi consente di bilanciare gli interessi degli Stati membri dell'eurozona con gli interessi generali dell'Unione, che sono comunque toccati dalle scelte che l'eurozona prende al suo interno. Non serve dunque un Parlamento dell'eurozona e non bisogna tornare indietro rispetto al principio introdotto dal Trattato di Lisbona, secondo cui i deputati rappresentano i cittadini dell'Unione. È possibile e necessario, naturalmente, attraverso il regolamento e attraverso l'azione politica dei gruppi, organizzare specifiche forme di differenziazione interne al Parlamento connesse all'Unione economica e monetaria, ma senza giungere a rivedere il Trattato su questo punto e senza prevedere una formale differenziazione del ruolo dei deputati sulla base della nazionalità. Le ultime due parti del rapporto analizzano e propongono riforme a trattati costanti e, infine, ipotesi di cambiamento dei trattati. Nel primo caso il contributo della Commissione Econ e di quella EMPL è stato determinante, riprendendo e sviluppando molti punti contenuti già nel rapporto Thyssen. Sottolineo solo un contributo specifico sulla possibilità tecnica di collocare il meccanismo di solidarietà e poi una fiscal capacity all'interno del bilancio dell'Unione. Sulla riforma dei trattati, invece, il rapporto propone numerose ipotesi, anche alcune ambiziose, che introducono la codecisione nell'ambito della politica economica, che rendono la Commissione centro e perno di un vero Governo economico europeo, che prevedono una sorta di passerella attraverso l'articolo 136 per arrivare a una competenza concorrente nell'ambito economico per i Paesi dell'Eurozona, che porterebbero a superare l'unanimità sull'MFF e sulle risorse proprie e che, infine, affrontano la stessa procedura di revisione dei trattati. Quindi un rapporto ampio, un rapporto ambizioso sul quale volevo ringraziare la splendida cooperazione avuta col correlatore Tarkovsky, ora divenuto Ministro in Polonia, e vorrei che auspico, e con tutti gli Shadow Rapporter e con gli altri gruppi, un rapporto sul quale auspico si registri un'ampia convergenza nel voto di domani. Grazie. Grazie, 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 Roberto. Grazie, Roberto. Sì, in effetti, il collega Schöpflin svolge ora la funzione che era dell'onorevole Tarkovsky e che ora invece è diventato...